raga siamo nel video in cui mio fratello prova la mia macchina c'è un po di tensione iniziamo con la video spiegazione prima cosa ti devi regolare il sedile ma devi essere comodo prova anche con l'acceleratore acceleratore tutto a destra freno in mezzo frizione a sinistra ci arrivi bene con le mani sul volante io tengo così cambio di solito le macchine hanno la prima in alto a sinistra terza in alto centrale quarta in basso centrale e questa solo la quinta che va in alto a destra retromarcia su questa che non c'è scritto niente devi far così devi spostarla su un po a sinistra e poi ancora più a sinistra e buttarla in alto ci sei esatto così sei in folle se invece la porti sulla sinistra in alto sempre iniziamo gira la chiave allora chiave chiave giri un po così fa tutto il check e accendi come sulle moto siamo in folle quindi se io faccio siamo esatto se dai gas e la macchina sale di giri prima la cintura siamo in un parcheggio è il concetto è come quello della moto facciamo che la macchina togliamo il clima togliamo gpl così la macchina va al massimo inserisci la prima solo a sinistra se in primo così retromarcia quindi provata esatto dovresti essere in primo se non siamo in testa se no va indietro allora ti spiego piede fa così un po alla volta e dai un filo di gas come come per la moto ok allora non spaventarti la macchina è benzina quindi al massimo muore cioè salta e muore nel caso ti fai la mano sì ma devi toglierlo per partire o se se ti viene in paura io ti tiro il frano a mano e tu tira la frizione che ci fermiamo sta tranquillo non ci sarà un problema stai tranquillo è come la moto prova solo a partire molla la frizione piano piano aspetta ho ritirato la frizione perché mi sento un po strano ok tienila così di gas ok tranquillo tranquillo falla andare falla andare sei in primo non accelerare troppo perché sennò a che va allora il volante lo stai già tenendo esatto non devi non devi mai incrociare le mani io tengo piede fermo esatto vedi che la macchina non è difficile anche sta un po soffrendo hai la frizione tirata molla molla tutta e vai lasciala andare molla piano molla piano molla tutta piano ma la molla la molla la molla la tutta togli i piedi da lì non lo voglio vedere guardate che corvetta per farla curva tienila un po puntato e farla piano senza la frizione tirata non avevo paura non avevo paura lo stesso concetto della moto sono in prima andiamo ancora a provare a mettere la seconda intanto inizia a capire come funziona fermati fermati si ma ferma di solito non premere prima la frizione e dove poi il freno premi prima un po il freno poi la frizione si deve fermare come come sulla moto per partire freccia a destra freccia sono di qua su è a destra giù a sinistra ok c'era il signore tutti i gas costante e molla la frizione ok tranquillo 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 molla quella di frizione piano piano e lascia la mollata ok allora il cambio molli il gas premi la frizione e butti giù ok molli la frizione e dai ancora il gas secondo adesso frena un po tira la frizione e fermiamoci a destra spostati tutto a destra qua nel gallino perché ti sei fermato in mezzo alla strada devi girarti quindi manovra così manovra evasiva senza ma no ma senza retromarcia secondo me ce la facciamo metti in prima quindi sposto a sinistra esatto buttati la dove c'è la ghiaia si mettiti la che la facciamo larga adesso buttati un po destra si 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 adesso gira tutto a sinistra inizia a girarti con calma bravi no vai 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 mai mai이는 allora gira e prima adesso attento me spacchi il cambio Gira già il volante, giralo dall'altra parte e guardo dietro come il vero King esatto che nemmo in costa vediamo se si è messo in prima eh vabbè è stato bravo se si è spenta devi spegnerla bravo fai sentire un po' il V4 basta e qua siamo in benzina devo far notare che questa macchina è notata di impianto GPL per andare più forte per i tirchi come leo stai nella tua corsia sta già soffrendo quindi devo cambiare marcia molla il gas molla il gas tiro la frizione metti in seconda molla la frizione ride il gas guarda te la come me come se la pinna me la pinna stai già impennandosi in macchina adesso guida normale andiamo lì dove c'è l'azienda si si butti tipo dentro il coso accelera normale posso tirare la frizione non stare dentro vai in strada porca praia là là dopo il cantiere stai a destra segui la strada frena frena frizione fermati però fermati prima della linea se la prima se sei in seconda che sei giù dritto tu butti e la lasci lì e poi butti dritto perché se butti così metti in primo facciamo un altro giro attorno la frezza a destra si deve andare a destra guarda sempre adesso non arriva nessuno esatto molla piano la frizione bravo hande cesimo quanto stai andando bene guarda la partenza stai nella tua corsia mettimi già in seconda ok fiero bravo non la tagliamo fiero esatto fai il figlio gangster come i veri gangster cica in bocca pensa a guardare in strada mia volta tranquilla c'è sembra di essere in un videogioco sembra andare tranquilli basta non bisogna impanicarsi si spente la macchina una sola volta ok fermati metti in primo vai destro hai guardato ok vai un po' avanti piano piano bravo questo va almeno giusto ancora cica ormai questo fa tutte le volte che mi hai detto su questo fa tutte le volte che mi hai detto su passa nell'altro parcheggio poi mamma mia sei la vischia un motocciallissimo guardate sto anche nelle corsie andiamo un po' il gas andiamo un parcheggio e tiriamo l'ombra facciamo un parcheggio quando la prendo un po' larga dai li li è l'ombra fermati tac 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 allora folle boh spegni questa tacata di macchina con la cicca e tirami anche un freno a mano qua ok con la cicca trovo facile e non ci vedo ecco e ecco Grazie a tutti